Buongiorno Vigevano, oggi parleremo dell'approvazione da parte di Andrea Cefa e di Andrea Sala del nuovo centro islamico di via Rovereto, concesso alla associazione ricreativa Il Medina e dell'indiscrezione secondo la quale Andrea Cefa e Andrea Sala si sono recati proprio alla celebrazione della Pasqua Araba che si è svolta il 31 luglio scorso al Palazzetto dello Sport, aspettandosi ovviamente l'appoggio della comunità islamica per l'approvazione del nuovo centro islamico per le prossime elezioni del 20 e 21 settembre e di cui purtroppo nessun giornale dice assolutamente una parola che sia una. Come sappiamo nel corso del tempo Andrea Cefa e Andrea Sala hanno sempre usato toni molto forti nei confronti degli stranieri e soprattutto della comunità musulmana nel nostro centro cittadino. In particolar modo già nel 2013 durante una trasmissione di Telepavia Andrea Sala diceva gli extracomunitari sono la piaga della nostra società e Andrea Cefa rincarava la dose dicendo non accuserei proprio tutti gli stranieri spiega Cefa il vero problema sono gli arabi e gli egiziani in particolare. Ancora nel 2016 parlando proprio della possibilità di un nuovo centro islamico a Vigevano in via Monti che era stato preso in affitto da parte della comunità islamica Cefa che cosa diceva? Diceva chiaramente non ci sarà un secondo centro islamico a Vigevano. Andrea Cefa vice sindaco e assessore all'urbanistica non lascia alcuna speranza ai musulmani. Manderemo la polizia locale a presidiare l'area di via Monti dove vorrebbero creare un nuovo centro islamico spiega Cefa e vieteremo qualsiasi raduno in città e ancora sempre nello stesso articolo prosegue dicendo non vogliamo una seconda moschea o un secondo centro culturale come lo chiamano loro e in quell'area non ci sono le condizioni urbanistiche per pensare a un edificio di culto cosa che peraltro non autorizzerò mai finché ne avrò la facoltà. Poi casualmente nel 2020 Andrea Cefa cambia miracolosamente idea e come mai vi chiederete voi? Beh perché quando la paura di andare a casa e di perdere la poltrona fa 90 allora va bene anche il voto degli islamici e dei musulmani però se non gli dai qualcosa caro Andrea Cefa mica ti votano i musulmani allora gli dai ovviamente il permesso che da tempo era fermo in comune per il nuovo centro islamico. La cosa che però fa ridere è che si cerca di camuffare il nuovo centro islamico con un centro ricreativo. Infatti l'approvazione da parte del comune dice che viene approvato come centro ricreativo e che non è ammessa l'attività di culto. Ora è ovvio però che come non è ammessa in via Mulini e se in via Mulini pregano andranno a pregare anche se non è ammesso in via Rovereto. Infatti la cosa che stride ancora di più è che il centro ricreativo il Medina che così ha cambiato il proprio nome da centro culturale è il Medina che è sempre lo stesso di via Mulini perché il codice fiscale è sempre lo stesso continua a risultare tra le associazioni islamiche a matrice religiosa a vocazione religiosa. Infatti proprio la pratica di approvazione di cambio di destinazione d'uso del capannone di via Rovereto richiama questo punto e dice che sul sito dell'osservatorio sul pluralismo religioso nella mappa delle associazioni centri islamici moschee e aggregazioni di matrice islamiche in Lombardia compare il centro culturale islamico il Medina in via Mulini 15 pur in presenza della modifica dell'attuale denominazione anche in mappa in centro ricreativo il Medina e dice ancora in mancanza di un riscontro alla mail interna del 2011 2019 proprio su questa questione nulla osta al rilascio del permesso quindi di cosa stiamo parlando stiamo parlando semplicemente del fatto che si sta concedendo un nuovo centro islamico facendolo passare per un centro ricreativo infatti se andiamo a vedere sulla pagina facebook del centro culturale è il Medina oggi centro ricreativo il Medina di via Mulini 15 tra le prime finalità c'è proprio diffondere la conoscenza dell'Islam e dei valori della sua civiltà e la cultura islamica quindi se questa non è un'associazione islamica io non so che cosa lo sia quindi non vediamo di camuffare per un centro ricreativo quello che è altra cosa ma soprattutto la cosa scandalosa è vedere la totale incoerenza di ceffa e di sala che cercano di far passare sotto banco dopo aver sputato per anni contro musulmani e stranieri il fatto che oggi invece pur di cercare di non andare a casa li approvano il nuovo centro islamico e che addirittura si presentano alla pasqua araba presso il palazzetto sport del 31 luglio scorso dopo aver approvato pochi giorni prima proprio il 23 di luglio il nuovo centro islamico così da poter dimostrare di averlo fatto e di ottenere l'appoggio dalla comunità musulmana di Vigevano per le prossime elezioni altra singolarità per un vice sindaco e un sindaco che si fanno fotografare ancora un po anche quando vanno in bagno è strano che non ci sia stata nessuna foto nessun articolo di giornale per la loro presenza alla celebrazione della pasqua araba singolare veramente perché sono andati a inaugurare persino il distributore di gel igienizzante in comune nel periodo covid e poi dopo quando vai ad una manifestazione così importante come la pasqua araba mancano fotografi e mancano giornalisti che strano ci dispiace però andrea ceffa che non ti è riuscita la marachella e che comunque sia la tua ennesima bella figura di palta te la sei fatta anche questa volta oltre aver dimostrato che prima spuntavi sui musulmani oggi siccome ti servono per cercare di salvarti il culo allora gli chiedi il voto e gli approvi il tanto vituperato da parte tua centro islamico dall'altro lato ti ricordiamo quindi che in definitiva anche se continui a buttare la polvere sotto il tappeto tosto tardi questa salta fuori lo stesso